Professor Butera, è d'accordo con questa analisi? Che è molto centrale peraltro. Sì, sì, sono d'accordo, ma alla radice di questa difficoltà di una rappresentanza, e anche di una modalità di governo, sia negoziale, sia giuridico, del lavoro, c'è un problema radicale prima di questo, e il problema radicale è di che cosa stiamo parlando, che cos'è il lavoro. Tutto il percorso di questa ricerca, su cui Mimmo De Masi ci ha indotto, insomma, senza dirci chi erano i compagni di viaggio né i committenti. Ecco, è stato un tentativo di dire non solo come sarà il futuro, non diamo i numeri, ma anche cerchiamo di capire che cosa sappiamo e come quello che sappiamo può servire per progettare il futuro. Quindi da questo punto di vista, la provocazione che lei faceva all'inizio, questo lavoro, non so se è il più rigoroso possibile, è immaginabile, se è un tipo di lavoro che fa l'Istat, eccetera, però prima di tutto, insomma, è un lavoro che né altri partiti, né i ministeri, né i sindacati hanno mai commissionato recentemente. Allora, questa cosa ce la dobbiamo porre, insomma. Ora, quello che sta venendo fuori dalla lettura di queste 303 pagine, da queste presentazioni, è che le variabili che influiscono su quello di cui stiamo discutendo, sono molto numerose, variabili macro, variabili intermedie, variabili micro, insomma, ecco, che molte delle cose che noi dovremmo capire non le sappiamo, e meno che mai sappiamo come andrà a finire, e meno che mai sappiamo con che metodo sarà possibile indurre, influenzare, progettare. Quindi questo è quello che io ho capito, diciamo, poi leggendo, rileggendo le 303 pagine. Ora, il contributo, diciamo, specifico che io mi sono permesso di dare su questa cosa, ecco, parte da questa cosa un po' astratta e un po' basilare, no? Di che cosa stiamo parlando, insomma, no? Ecco, tutti i ragionamenti che noi abbiamo fatto da ieri a oggi partono dalla domanda che cosa sarà il lavoro nel 2005, no? Non quanto lavoro ci sarà, non chi lo regolerà, ecco, non che norme metteremo, non che redditi di... Ecco, ma sostanzialmente qual è la natura, la sostanza di questo lavoro? Allora, io sono stato molto colpito ieri dall'intervento del professor Romagnoli che diceva il sogno proibito, insomma, no? Ecco, questo sogno proibito è una dimensione centrale, insomma, no? Il modo di rappresentare il lavoro e di regolare il lavoro è il modo di rappresentare la subordinazione. E il modo di rappresentare, ecco, il modo con cui le imprese, le pubbliche amministrazioni dettano le regole, insomma, no? Ecco, che poi i lavoratori devono seguire, insomma. E il modello organizzativo e di lavoro che abbiamo dietro le spalle è stato un modello di lavoro, ecco, che ha portato alle estreme conseguenze, insomma, a questa idea. I due dispositivi centrali, insomma, no? Di quel modello erano fondamentalmente il controllo e il coordinamento gerarchico. Alla fine la verità è che decide chi è al vertice di una piramide gerarchica, che è il modo più efficace, insomma, no? Inventato dai militari e poi ripreso dalle industrie, eccetera. E una divisione del lavoro spinta, ecco, fino ad una frammentazione, a una parcellizzazione estrema, ecco, che divideva il mondo tra operai esecutivi, tecnici più o meno capaci di fare le cose e manager, no? Questa cosa è una costruzione sociale che abbiamo. Il futuro del lavoro, quello che sarà indotto dall'intelligenza artificiale, con le protesi che abbiamo visto, insomma, no? Ecco, il lavoro che si svolgerà in rete, il lavoro che si svolgerà nelle start-up, il lavoro che si svolgerà per innovare, il lavoro che si svolgerà in pubblica amministrazione, fatta in un modo diverso, avrà dei contenuti diversi. Allora, stiamo attenti, perché prima di vedere come li paghiamo, ecco, come li regoliamo, noi abbiamo la domanda di dire che faranno, che cosa avranno? E il tema che pone il professor Romagnoli è centrale. Avranno più autonomia? Avranno più responsabilità? Avranno più potere tecnico prima che politico, insomma, no? Sicuramente sì. E allora noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui i web designer, gli assistenti sociali, gli ingegneri che inventano un nuovo software, gli imprenditori che fanno le start-up, hanno un ambito, diciamo, di autonomia, di responsabilità molto ampia alla quale non corrisponde né una rappresentazione sociale, né una rappresentazione comunicativa, e meno che mai una rappresentazione di interessi. Allora, anche la zia Pina, anche la massaia di Voghera sa com'era il lavoro prima, gli hanno spiegato Charlie Chaplin, cioè il pezzo geniale, ecco, di tempi moderni, fa vedere come era fatto il lavoro allora, l'hanno capito tutti, ma non era un giochino, insomma, no? Era un modello di società, quello che stiamo discutendo, ne ha parlato, ne hanno parlato, ne avete parlato su mattina, era un modello di regolazione sociale, era un modello economico, era un modello di relazioni industriali, era un modello di contenuto. Questa cosa è saltata, perché quel lavoro lì non c'è più, ma è saltata non oggi, è saltata da 40 anni. Allora, da 40 anni noi abbiamo emergenti delle forme di organizzazione e di lavoro che violano il modello che ci ha presentato Umberto Romagnoli, insomma, cioè dei modelli di lavoro basati sull'autonomia, sulla responsabilità, delle forme organizzative che incidentalmente sono poi quelle che hanno dato luogo allo sviluppo di imprese piccole, medie, più competitive, più capaci di raggiungere i risultati, a quei pezzi di pubblica amministrazione, non tanti, ahimè, che funzionano piuttosto bene. I modelli organizzativi e i modelli del lavoro che si sono evoluti in questi 40 anni sono diversi. Questa cosa noi non la sappiamo, non la sappiamo rappresentare, non la sappiamo regolare e quindi da questo punto di vista, ecco, la proiezione a un futuro che sarà terribilmente più cambiante, più modificato di quello che abbiamo, rischiamo che ci manca questa dimensione centrale, di che cosa stiamo parlando. Allora, ai miei studenti, io ho insegnato per tanto tempo qui a Roma e poi a Milano, gli ho spiegato che i due testi fondamentali che dovevano leggere per capire come si analizza il lavoro erano La chiave a stella di Primo Levi e America di Kafka, perché in queste cose qui c'è tutta la complessità di un lavoro che non sono le mansioni, che non sono le posizioni, che non sono gli inquadramenti, che non sono le retribuzioni, ma questa combinazione complessa, ecco, dell'agire, del muoversi, usare le conoscenze esistenti, eccetera. Cremaschi ieri mi diceva, sull'intervento precedente, che ho fatto un intervento trentiniano, sì, l'ho confesso. Trentino è stato un grande intellettuale che ha lavorato sull'idea di restituire ai lavoratori, non so, agli operai, il controllo delle conoscenze, e a partire dal controllo delle conoscenze, poi il controllo anche del potere, diciamo, negoziale e del valore. Peccato che Trentin ha lanciato la pietra e ha ritirato la mano, perché poi quando è diventato segretario generale della CGL si è allineato ad un modello, ecco, che è un modello sul quale sono stati tutti d'accordo, la Confindustria, le grandi aziende, i sindacati, quasi tutto, che era quello di... com'è? Quasi tutti. Quasi tutti. Che è quello di dire negoziamo l'esistente, facciamo quello che Burro vuoi chiama i giochi di produzione, no? E' più facile negoziare i tempi cottimi, insomma, no? E quindi da questo punto rafforzare quel modello di lavoro subordinario. Questa cosa non c'è più e perché non ci sia ci vogliono due cose. Una modestissima. Dobbiamo ricominciare a ricercare il lavoro, spiegare come è fatto il lavoro. Avere uno, due, cento, mille primo levi che spieghino cosa fanno gli ingegneri, cosa fanno gli operatori del call center, cosa fanno gli addetti ai supermercati, cosa fanno i professori. Questa cosa non la sappiamo. Secondo, raccontarla. Quindi chiedere a quelli che sanno comunicare, ecco, di raccontare queste cose come Charlie Chaplin l'ha fatto con quel modello precedente. Poi ci sono le fiction sui carabinieri, le fiction sui medici, ci sono queste cose qui. Però, ecco, da questo punto di vista, questo è il punto centrale. Allora, cosa abbiamo imparato noi nel contribuire? Nel dare un contributo, ognuno per la sua specialità, per la sua area, ecco, per dire, dobbiamo ricercare di più. Secondo, dobbiamo fare in modo tale che la ricerca non sia un dialogo tra esperti, insomma, ma sia qualcosa che possiamo raccontare alla Zia Pina e alla Massaia di Boghera e soprattutto un racconto che permetta di dare una indicazione su delle aree progettuali. Su questo tema del contenuto di lavoro, l'indicazione progettuale è che cosa possiamo fare per abbandonare le mansioni, le posizioni subordinate che sono la radice della debolezza del lavoro. Che cosa possiamo fare per liberarci di organizzazioni burocratiche, sia pubbliche che private, che sono alla radice della debolezza del fatto che poi i francesi si comprano le aziende e così via. Non è solo questo, evidentemente, ma ci sono tante altre dimensioni. Quindi che cosa possiamo fare per trasformare le organizzazioni in strutture vitali, abili a ottenere risultati non solo economici, ma di benessere sociale, di benessere dei lavoratori, che cosa facciamo per trasformare il lavoro in work, lavoro che ha una dimensione di work authority maggiore. C'è tutta una storia in cui possiamo raccontare già casi che da 40 anni hanno seguito questi passaggi. Non ho il tempo di raccontarle, ho lavorato molti anni su queste cose e le ho rappresentate. Adesso è arrivato il momento che dobbiamo cominciare a rappresentare e dire che cosa succede nell'azienda della start-up che abbiamo sentito adesso, cosa fanno i lavoratori, cosa fanno questi di Fodora, come si fa a inventare una nuova... Noi dobbiamo ritornare non solo a ridefinire ruoli, mestieri e professioni, ma fare in modo tale che questi ruoli, mestieri e professioni abbiano il massimo livello tollerabile di autonomia, di responsabilità, di conoscenza e di potere perché poi se questo c'è viene il resto. Allora la domanda e chiudo, la domanda è chi è che si mette a fare questo? Questo è un compito lo dicevo ieri, troppo complicato perché la singola amministrazione, la singola azienda, il singolo sindacato e il singolo gruppo professionale lo possa fare da solo. Questa è un'opera collettiva che va fatta in maniera collaborativa, quindi bisogna partecipare e la partecipazione ha due fasi, un momento in cui si progetta, quando si progetta bisogna mettere in funzione tutte le idee migliori per cambiare le cose e quindi da questo punto di vista siamo nelle condizioni di inventare progettare il punto di Messino, progettare la Salerno Reggio Calabria non è una cosa che progettiamo con gli slogan bisogna seguire un certo percorso e ci sono interessi contrastanti, competenze contrastanti, eccetera, quello di cui stiamo parlando è aprire dei cantieri di progetto e questa cosa richiede una collaborazione per esempio tra imprese e sindacato su cui il sindacato non ne vuole sentire parlare o almeno nel passato non ne voleva sentire parlare perché temeva di essere intrappolato nella mitbestingum tedesca o nell'industrial democracy scandinava e ce lo dobbiamo dire, insomma, queste cose molto esplicite e le aziende non hanno piacere di essere interferite né dal pubblico che gli mette le regole e neanche dal sindacato che parte ma non c'è altra strada e ci sono tanti casi in cui i casi migliori sono casi di collaborazione interistituzionale di aziende di lavori inventati poi fatta questa cosa si negozia allora quanto paghi i lavoratori qual è l'orario di lavoro come fai a regolare il tempo di lavoro e il tempo di vita come fai il welfare questa è una roba su cui si contratta come si è contrattato fin dall'inizio della rivoluzione industriale allora la capacità di distinguere queste due cose è una capacità che gli svedesi hanno trovato che i tedeschi hanno trovato e che noi da 40 anni abbiamo una paura dannata di poter avviare io credo che non ci sia altra strada che fare questo grazie allora ci avviciniamo fra una decina di minuti al question time allora per chiudere Butera che ha chiesto la parola e poi passiamo alle domande no solo due due casi noi non dobbiamo pensare che dobbiamo fare come la Germania o come la Svezia insomma noi abbiamo delle storie italiane su cui dobbiamo ritornare per progettare il futuro Alma Viva Alma Viva è un'azienda scadente mi spiace di dirlo che ha costruito un lavoro scadente per i suoi lavoratori in competizione con lavoratori che vivono in altri paesi che costano meno è stata sovvenzionata non poteva non fallire poi è giusto cercare di proteggere i lavoratori e non metterli per le strade una storia inversa è la storia di Omnitel un'aziendina piccola che si trova a competere con la team e che decide di competere dando un livello di servizio di customer care come si chiama di cura del cliente più elevato prima fa la pubblicità e poi monta un grande progetto che chiamò che chiamò nuovi orizzonti ecco che era basato sull'idea di fare un'organizzazione flessibile una professionalizzazione degli operatori chiamati rep representative non dei risponditori automatici ovviamente questa cosa gli costava di più di quanto non costa dal Mariva questo ha consentito all'Omnitel di diventare un colosso internazionale insieme con altre cose questa cosa lo ha fatto con la partecipazione dei manager con la partecipazione dei lavoratori con la partecipazione dei sindacati e il risultato è un'azienda che non è fallita che non porta i libri in tribunale ma che domina un altro caso e chiudo benissimo Marchionne ha detto guardate qui se non vi mettete in riga non andiamo tutto a casa c'è un'altra storia archeologica da questo punto di vista ed è un'azienda che faceva le macchine da scrivere le macchine da calcolo a Ivrea di cui non faccio il nome ecco che aveva il 65% di quota di mercato mondiale sulla Tetractis che era la macchina da calcolo grande un'azienda dominante 40.000 persone un'azienda democratica insomma quello che voi sapete da questo punto di vista puramente tayloristica quindi tutta la cura delle persone era il welfare non il contenuto di lavoro e a un certo punto quello che succede è che arrivano i giapponesi e dicono sapete che c'è di nuovo la Tetractis noi la facciamo con i chip non la facciamo con i pezzi di ferro questa cosa costa da un decimo a un centesimo in meno l'Olimpia che era molto più grande dell'Olivetti fallì l'Olivetti si salvò e sapete come che si è salvata ha attivato lo scrigno di competenza dei suoi tecnici dei suoi manager dei suoi operari per dire come facciamo a uscire da quel modello di Charlie Chaplin che ci ha assicurato lo sviluppo e inventarci un'altra cosa e fare un lavoro basato sul lavoro di gruppo sulla maggiore autonomia sulla maggiore responsabilità costerà di più insomma ecco però questo ci dà quella flessibilità ecco di cambiare la produzione ogni sei mesi perché di questo si trattava insomma per fare per fare questa cosa la presenza del sindacato è stata prima dopo durante fortissima l'Olivetti ha investito un'enorme quantità di denaro per fare della formazione torno al punto che toccava Luca Luca De Biase prima ecco e questa cosa ha consentito nel giro dei tre anni di salvare l'azienda allora poi è andata male per altri motivi ecco allora c'è un altro modello che non è che il proprietario ti chiama e ti dice ragazzi qui l'azienda sta fallendo allora la partecipazione non solo col sindacato insomma ecco ma con i lavoratori e l'attivazione di quei tecnici che sono depositari di un potere tecnico che non sta dentro il sogno proibito di cui parlava Romagnoli mi ricordo quando io ero giovane si parlava di proletarizzazione dei tecnici una delle follie e delle cretinagini più assolute mentre aumentava il potere dei tecnici ecco si tentava di ricondurre i tecnici alle stesse condizioni degli operai di montaggio per poterli sindacalizzare negli stessi termini la cosa è andata tutta in un altro modo grazie